È storico perché giustamente questa è la casa del toro e mancando la base è normale che agli tifosi manca qualche cosa, però speriamo che riescano a mantenerlo e a farlo come lo era prima. Il fatto di essere rifatto secondo me non andava abbandonato, andava ricostruito prima e rimesso in ordine per bene prima. Il quartiere ci conosce e sapeva che noi non disturbavamo mai, anzi era semplicemente uno stimolo per loro perché quelle poche persone che durante i nostri allenamenti ci guardavano dai loro balconi erano contenti, non è che ci guardavano male, è tutt'altro. Ma nel calcio non si inventa più niente, è già stato inventato tutto, si tratta semplicemente di saperlo sfruttare al massimo, quindi basta avere la forza di fare quattro passi indietro e poi le cose vanno di sicuro meglio. Noi abbiamo fatto tanti risultati grazie a questo campo, penso che se loro lo prendono come l'abbiamo preso noi, di sicuro qualche risultato in più lo avranno.